Saffi in fiera, un pomeriggio divertente per grandi e piccini. La scuola elementare Aurelio Saffi, in Viale Spazzoli a Forlì, organizza questo giovedì dalle 14.30 un pomeriggio di autofinanziamento. La scuola aprirà le porte al pubblico per una grande asta di 19 opere regalate dai più grandi artisti locali. Una bellissima idea che coinvolgerà anche i bambini, che si organizzeranno in piccoli stand dove proporranno i propri manufatti. Tutto questo per autofinanziare la scuola, dove tanti forlivesi hanno trascorso la loro infanzia.